Oltre al campo austico è difficile, la squadra avversaria era veramente accanita perché ovviamente il derby si sente e loro su questo campo è dove puntano a fare più punti in assoluto perché sono in casa e giocano bene. Quindi noi siamo arrivati con la nostra ferocia, la nostra cattiveria solita e secondo me se non fossimo stati condizionati dall'espulsione la partita sarebbe finita diversamente. Non abbiamo subito grossi pericoli noi, anche in dieci con le nostre due linee da quattro e coda come unica punta abbiamo concesso veramente poco. Loro hanno trovato un gran gol su calcio di punizione e oltre a quello non mi ricordo particolari pericoli da parte mia a parte qualche uscita fatta nel secondo tempo. Quindi come dicevo prima, secondo me se fossimo stati 11 contro 11 non dico che potevamo vincere perché è eccessivo dire così però secondo me potevamo creare molte più occasioni e non si sa mai cosa poteva succedere. A mio parere l'espulsione di Cardirola, soprattutto la prima munizione, non c'era, non ci stava. La seconda non l'ho rivista quindi non posso dare giudizi e il gol su punizione purtroppo ha trovato i giochi della domenica e quindi non ci si poteva fare nulla. Ho cancellato completamente la stagione scorsa, sia cose positive sia cose negative come sappiamo bene tutti però diciamo che questa squadra e questo modo di giocare mi dà anche più serenità a me in campo. Poi i risultati ovvio che portano buon umore però anche dopo Pescara che è stata una prestazione negativa io sono rimasto comunque con il sorriso perché bisogna essere sempre, non dico felici, ma almeno di buon umore a testa alta per saper combattere e realizzarsi sempre dalle difficoltà. Noi quando giochiamo non andiamo a vedere se è una big o una piccola, sinceramente cerchiamo sempre di dare il 100%. Poi affronteremo come ha detto tu il Crotone che al momento è secondo in classifica. Sarà una grande sfida come le due sfide precedenti in casa con Cremonese e Empoli e cercheremo di portare via i tre punti anche se sarà molto difficile perché loro sono in un buon periodo di forma e l'abbiamo visto anche ieri sera.